Un violento incendio è divampato poco dopo le 13 in un negozio in via Trezzo a Mestre. L'attività si occupa del commercio di componenti elettronici e riparazioni. A quell'ora era chiuso, le fiamme hanno gravemente danneggiato l'esercizio commerciale, causando anche danni strutturali al solaio per lo scoppio dell'atterizio. Imponente il lavoro dei pompieri che hanno evitato il coinvolgimento dell'intero fabbricato. A scopo cautelativo al momento è interdetto l'uso dell'appartamento sovrastante. Subito dopo lo spegnimento delle fiamme è stata avviata la bonifica del negozio e la verifica dell'edificio e ovviamente sono in corso indagini per stabilire le cause dell'incendio.